Il più cordiale saluto da ETG edizione domenica, l'edizione della sera del nostro telegiornale che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ETV, canale 12, che in streaming sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarche.it, notizie che trovate aggiornate H24 anche sulla nostra pagina Facebook ETV Marche, come pure sulla nostra app scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet ETV Marche. In apertura di questa edizione andiamo a Fabriano dove purtroppo si è consumato un episodio di violenza domestica ne è da tendersi anche sul nostro sito www.etvmarche.it, un uomo trovato morto in casa fermata la compagna lo hanno trovato morto in casa con una ferita alla testa, un omicidio consumatosi ieri sera in un'abitazione del centro di Fabriano a perdere la vita un uomo Fausto Baldoni, 60 anni, operaio colpito con un corpo contundente sospetti sulla compagna 51enne fermata per omicidio volontario, già piantonata nel carcere femminile di Pesaro Sul posto i carabinieri il corpo è stato scoperto attorno alle 21, a dare l'allarme sono stati i familiari della vittima che ha circa 60 anni, la porta è stata aperta dai vigili del fuoco, indagini in corso per capire cosa abbia scatenato tanta violenza Pochi minuti fa abbiamo pubblicato un'ultima notizia sulla vicenda, l'avvocato della donna che annuncia si è solo difesa non voleva ucciderlo, così l'avvocato della donna accusata dell'omicidio del compagno a Fabriano non c'era nessuna intenzione di ucciderlo, si è solo difesa così l'avvocato Franco Libori del foro di Perugia spiega quanto accaduto ieri sera in via Castelli a Fabriano dove è stato trovato morto l'uomo Fausto Baldoni, sessantenne con ferite alla testa l'avvocato è illegale della donna di 51 anni, convivente di Baldoni, ora in stato di fermo per omicidio volontario è stata sentita dai carabinieri del nucleo investigativo nella caserma di Fabriano ai militari, ha dato la sua versione dei fatti, ritenuta però poco credibile tanto che il PM Daniele Paci della procura di Ancona ha chiesto il fermo Notizia in aggiornamento, ulteriori notizie nelle prossime edizioni Voltiamo pagina, torniamo sul maltempo restando tra l'altro in zona Fabriano per una bomba d'acqua la seconda nel giro di pochi giorni che ha colpito proprio la città Una nuova bomba d'acqua, la seconda in appena 10 giorni, ha colpito sabato pomeriggio la città di Fabriano è caduta una quantità d'acqua impressionante in pochissimo tempo, racconta il sindaco Daniela Gergo la pioggia che ha provocato disagio alla circolazione, smottamenti e allagamenti le situazioni più critiche ad Attigio, lungo la strada che collega la frazione con Fabriano e in località case Tiberino, lontano da Rocchetta Bassa da segnalare diversi allagamenti nei garage caduti diversi alberi, acqua mista a terra, ha invaso la carreggiata in via Serraloggia in via Fratelli Latini è stato necessario, sulla strada provinciale 15, mettere il senso unico alternato con impianto semaforico vigili del fuoco, forze dell'ordine, protezione civile al lavoro per ripristinare la viabilità e mettere le zone interessate dalla bomba d'acqua in sicurezza impressionanti le immagini dello smottamento che ha coinvolto parte del pendio del Monte Catria e portato tonnellate di materiale sulla carreggiata poco prima dell'ultima galleria che collega Cagli a Cantiano è il chilometro 226.5 della Flaminia per ore, chiuso al traffico con automobilisti bloccati il personale ANAS al lavoro ha consentito con Guardiania H24 la riapertura in serata mentre sono stati attivati autobus sostitutivi lungo la linea Ancona-Fabriano-Roma per una frana in Umbria tra Terni e Giuncano torna, insomma, la paura dopo il 15 settembre scorso nel territorio di Cantiano ondata di maltempo che sembra non essersi del tutto esaurita almeno stando al bollettino della protezione civile delle Marche che ha emesso un'allerta gialla per temporali per l'intera giornata di domenica su tutto il territorio regionale Ancora una notizia di cronaca sempre dal nostro sito e tvmarche.it Sciocca d'Ancona ha trovato un 25enne in un lago di sangue abbiamo anche delle immagini, dell'episodio, una scena fortissima quella che si sono ritrovati davanti i sanitari nel pomeriggio di ieri ad Ancona un 25enne anconetano è stato trovato in un lago di sangue in via Montebello come potete vedere è successo nel pomeriggio di ieri nella parallela Piazza Pertini il giovane soccorso dalla croce gialla e dall'automedica è stato trasportato in codice rosso avanzato all'ospedale di Torrette secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti che stanno visionando le telecamere dell'esercizio commerciale adiacente dove è stato ritrovato il 25enne il ragazzo era sul muretto che si affaggia nel parcheggio di via Montebello negli attimi precedenti la tragedia si sarebbe girato forse mentre dormiva o colpito da un malore precipitando da oltre due metri d'altezza il ragazzo si trova al nosocomio regionale in gravi condizioni vi terremo anche in questo caso aggiornati ora facciamo un passo verso il territorio del fanese la celebrazione dell'enogastronomia marchigiana attraverso il brodetto il festival del brodetto cui oggi ha partecipato anche il ministro Lollobrigida l'occasione anche per fare il punto sulla giornata mondiale dell'ambiente che sarà proprio domani e allora la riflessione da parte del ministro intervistato dal collega Andrea Fiano sugli agricoltori e sui pescatori come sentinelle dell'ambiente come tutori del territorio sono convinto che sia così perché traggono dall'ambiente la loro risorsa principale in termini economiche non solo in termini di soddisfazione sono legati a questo da una passione che a volte la maggior parte gli viene tramandata dai propri genitori e vorrebbero regalarla ai loro figli ed è per questo che sono così legati intimamente al rispetto della sostenibilità ambientale che deve essere coniugata con la sostenibilità produttiva garantendo un tessuto che è particolarmente ricco e può produrre ricchezza Il ministro Lollobrigida è tornato anche sulla vittoria del centrodestra nel capoluogo regionale Ancona quindi un passo indietro rispetto al voto del ballottaggio per il capoluogo Quando c'è un buon governo a livello regionale anche città nelle quali sembrava ci fosse una scelta obbligatoria rispetto a una coalizione piuttosto che un'altra vanno a cadere e cambia diciamo come è normale in una logica di alternanza la guida della città e quindi io sono contento davvero che le marche siano diventate un esempio di buon governo Un passaggio sempre del ministro Lollobrigida e il terzo in questo caso proprio sul brodetto che si celebra a Fano Il brodetto è un grande prodotto che racconta come quella che viene definita cucina povera in realtà è una cucina ricca di qualità e può portare benessere non solo in termini di gusto ma anche in termini di ricchezza per coloro che legano a queste produzioni la loro vita Un passaggio ora su Senigallia dove è stato presentato il cartellone della stagione estiva ormai alle porte New Trolls, Francesco Baccini, Malika Ian e Gianni Morandi ecco le prime conferme nel cartellone estivo di Senigallia e poi anche la festa per i 90 anni della Rotonda Mare e la prima tappa del Summer Tour di RDS Senigallia annuncia un'estate ricca di eventi e grandi nomi con uno spazio dedicato anche alla cultura dalla rassegna di giallo noir a quella di archeologia sotterranea e poi allo sport primo evento fra tutti il passaggio in città della Mille Miglia tante attrazioni insomma per rendere Senigallia sempre più appetibile sul mercato turistico è una stagione estremamente ricca sul quale il comune di Senigallia ha investito molto e investe come ogni anno molto serve soprattutto per renderla più appetibile specialmente nei confronti di un turismo che l'anno scorso ci ha premiato perché siamo stati nella città con il maggior numero di presenze ma in una regione che l'anno scorso ha avuto un successone da un punto di vista turistico era evidente quest'anno come faremo anche il prossimo anno la necessità di dover rilanciare anche e soprattutto rispetto a quella che poteva essere un'immagine data a livello nazionale di zone che sono sempre oggetto di situazioni negative da un punto di vista meteorologico in realtà Senigallia è una città sicura è una città dove si sta bene e noi cercheremo di fare in modo appunto di essere sempre più attrattivi la città dunque è pronta per la stagione estiva ed è riuscita a riprendersi a tempo record anche dopo l'ultima alluvione nonostante i danni, spiega il primo cittadino Massimo Olivetti siano stati molto consistenti non abbiamo avuto delle conseguenze particolarmente negative ed è per questo anche e soprattutto che successivamente a quelli che sono stati il maltempo del 16 maggio noi abbiamo provveduto con grande velocità a pulire immediatamente le spiagge ecco perché durante il primo sopralluogo fatto alla protezione civile nazionale non avevano avuto benché una buona idea del fatto che noi eravamo stati colpiti esattamente come altre città del Pesarese e su questo noi abbiamo aperto un'interlocuzione con la Regione riapriremo anche per quanto riguarda l'interlocuzione anche con il Ministero perché Senigallia anche in questo secondo caso ha avuto delle conseguenze negative che noi riteniamo e chiediamo che possano essere poi recuperate da parte dello Stato di chi di competenza In chiusura sempre per la pagina degli appuntamenti parliamo di qualcosa che si è verificato ed è stato un successo eccolo qua il resoconto della serata conclusiva del Fly Marche Moda Gattinoni, Frida Chizza, i giovani talenti delle scuole marchigiane la moda del futuro in scena ieri sera a Borgo Lanciano grazie a Fly Marche evento che è stato seguito in diretta dalle telecamere di ETV con la realizzazione di uno speciale sul posto con interviste e curiosità che andrà in onda nei prossimi giorni le marche sono meravigliose ho portato la prima sfilata di alta moda di Guglielmo Mariotto che per anni ha diretto l'ufficio stile della Gattinoni ancora oggi collabora con noi sono doppiamente felice queste le parole di Stefano Dominella presidente di Gattinoni che ha salutato il successo della serata di gala di Fly Marche con un sapiente mix di alta moda artigianato, giovani talenti il tutto condito con il gusto dell'enogastronomia marchigiana appuntamento con lo special televisivo nei prossimi giorni chiaramente su ETV Canale 12 è tutto per questa edizione marchigiana di ETG vi ricordo in chiusura la notizia terribile con la quale abbiamo aperto questa edizione serale uomo trovato morto in casa fermata la compagna che si trova in questo momento nel carcere di Pesaro si è solo difesa non voleva ucciderlo pochi minuti fa le dichiarazioni dell'avvocato della donna accusata dell'omicidio del compagno a Fabriano ulteriori notizie nelle prossime edizioni buon proseguimento per i nostri programmi Grazie a tutti Grazie a tutti.